Benvenuti nella controrassegna stampa delle notizie meno diffuse dai medi italiani allineati all'euroatlantismo. Iniziamo con la notizia del titolo, come da titolo. È partita da una procedura penale, un'accusa, una denuncia in Ungheria contro il presidente della Repubblica Ucraino, Zelensky, per attentato terroristico, per minaccia di terrorismo di Stato ai danni di un'infrastruttura civile, energetica, strategica per il paese appartenente alla Nato, per l'Ungheria, per Budapest. Secondo il Washington Post, infatti, Zelensky avrebbe voluto, già a metà febbraio scorso, far saltare in aria, compiere un attentato contro l'oleodotto Druzba dell'amicizia che porta il petrolio uralico russo su cui sono tarate le raffinerie in Ungheria come quella di Sasalombot sotto Budapest, proprio per andare a colpire poi l'economia del governo urbano e buttare giù il governo scomodo che, per esempio, non dà armi e aiuti militari all'Ucraina stessa nella guerra contro la Russia. Tutto questo viene fuori dai documenti trapelati, come ho detto nelle ultime rassegne dei giorni discorsi, dai documenti del Pentagono andati in giro per internet per mesi sui vari server Discord, che è poi una piattaforma che si preoccupa di fornire servizi di chat, di messaggistica ai videogiocatori in rete. Zelensky viene mostrato dal Washington Post come una persona con almeno due facce. Da una parte la faccia preferita dall'Occidente, dalla narrativa allineata, di una persona pacata, calma, molto avversa, comunque favorevole al dialogo, avversa all'autoritarismo e quindi per la democrazia, i diritti umani, i valori europei, quello che viene detto più e più volte anche dalla Meloni negli ultimi giorni, Meloni che ha detto che noi italiani dobbiamo essere grati e siamo in debito con l'Ucraina di Zelensky. Per quanto riguarda invece il lato meno mostrato, l'altra faccia della Luna, quella in ombra rispetto alla narrativa occidentale, di un Zelensky, di un capo della Repubblica assolutamente aggressivo, lontano dai riflettori e che esorta molto spesso i suoi, come si può dire, i suoi uomini e donne, come vedremo, a portare avanti quella escalation, tanto famosa a livello militare a allargare quindi il conflitto anche a paesi Nato, quindi per favorire l'Ucraina contro l'armata di Mosca. A metà febbraio, in un incontro faccia a faccia a due, porte chiuse con Giulia Sfiridenko, vice prima ministra d'Ucraina, avrebbe quindi il primo presidente della Repubblica Ucraino esortato l'esercito a far saltare in aria, magari con missili o con droni, kamikaze, l'oleodotto e l'amicizia druzba verso l'Ungheria per colpire l'Ungheria, oltre ovviamente alla Russia nelle esportazioni di greggio. E cosa è successo? Che alla procura generale d'Ungheria è stata presentata una denuncia ufficialmente da un insegnante ex capo del ramo civico del partito di Orban, Fidesz, Ifyobteni Istvan, che è stato poi espulso 6-7 anni fa dallo stesso partito più grande ungherese. Per lui, per l'insegnante, si tratterebbe poi di un attentato terroristico, o quantomeno di una minaccia di sabotaggio contro gli interessi nazionali, contro la sicurezza nazionale e la sovranità ungherese. Una vera e propria minaccia, che cosa chiede l'insegnante all'autorità, quindi ai giudici, di indagare se c'è o meno poi il rischio per la sicurezza nazionale e quindi l'accusa, la condanna o meno del Presidente della Repubblica Ucraina, proprio per l'accusa di terrorismo internazionale. Cosa che potrebbe essere messa in parallelo, forse, probabilmente con quanto è successo a settembre scorso con il bombardamento, con le mine dei due gasdotti nel Baltico Nord Stream 1 e 2. Da lì non si sa più niente, forse solo tramite le parole e le indiscrezioni di giornalisti di inchiesta americani, premi Pulitzer come Simul Hirsch. Von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, avrebbe consigliato, detto agli ucraini, di chiudere il petrolio, non far passare più il petrolio russo verso l'Ungheria, proprio per questi problemi. Infatti, in uno scambio di lettere tra Presidente della Commissione Europea e il direttore generale della ditta energetica ucraina, Volodymyr Cependa, della ditta Ucr Transnafta, secondo informazioni europee a Bruxelles di Modior Nemzet, questo giornale conservatore ungherese, ci sarebbe stato appunto una scambio dimissiva in cui dalla von der Leyen l'Ucraina avrebbe preso un messaggio tranquillamente, potrete chiudere i rubinetti all'Ungheria, tanto Drusban Nord, questa è una notizia di qualche giorno fa, la Commissione Europea ha dato il via libera a chiudere il petrolio russo via terra, la parte nord di Drusban, l'oleodotto dell'amicizia, dalla Russia alla Polonia, anche alla Germania stessa di Ursula von der Leyen tramite il condotto ormai praticamente inattivo che passa attraverso la Bielorussia. Per quanto riguarda il giornale d'opposizione ungherese, Filo Soros, Filo Europeista, Ucrainista, Ultra Atalantista, Telex, ha chiesto spiegazioni alla Commissione Europea e il cui portavoce, uno dei portavoce della von der Leyen, ha parlato assolutamente di bugie, di bufale, di fake news, lei, la von der Leyen, non ne sa assolutamente nulla della ditta energetica ucraina, di lettere e di tutto lo scandalo che è venuto fuori dai dati, documenti trapelati dal Pentagono e quindi le esortazioni di Zelensky a far saltare in alia l'oreodotto verso l'Ungheria. Il ministro degli esteri ungherese, Siarto Peter, quindi non c'è solo una denuncia di un insegnante alla Procura Generale dell'Ungheria, come scritto nel titolo di questa rassegna, ma anche il governo ungherese si sta girando in un certo senso contro il governo e la presidenza di Kiev, perché per l'Ungheria, contro l'Ungheria, secondo Siarto, il ministro ungherese, l'Ucraina si sta comportando sempre in maniera più ostile. Aspettiamo, dice Siarto, ci aspettiamo dagli ungheresi, secondo la sua visione, di quanto pensano poi effettivamente i politici ucraini, che anche l'Ungheria digerisca tranquillamente danni alla sua economia, alla sua sorranità sempre più grandi, in questo caso il bombardamento di Druzhba. Dice Siarto, finché gli ucraini non tolgono dalla lista nera per i sostenitori della guerra e del terrorismo internazionale la nostra banca, OTP, tra l'altro la Rafaisen, che è austriaca, se non erro, ha un giro d'affari in Russia molto più grande, mistero della vita, nessuno tocca quella, per esempio. Finché, quindi, gli ucraini se la smettono di minacciare attentati contro le nostre infrastrutture energetiche, come l'oleodotto e l'amicizia, e quindi minacciano la nostra sicurezza energetica, allora noi, come paese in Ungheria, Budapest, il governo Fidesz, in Unione Europea mettiamo il veto contro il pacchetto, il quadro di aiuti per la pace, cioè 500 milioni di euro per andare a finanziare l'acquisto di munizioni e armi per l'Ucraina, paradossalmente, e diciamo no anche all'undicesimo pacchetto di sanzioni europee anti-russe, anti-russe, tra virgolette. Tutto questo, dice Siyarto, il ministro ungherese va contro la nostra sovranità nazionale, che deve essere difesa anche dalle intenzioni ucraine. Intanto il primo ministro ungherese Orban Viktor, su Twitter in inglese, ha riferito, come Hovashi Bertol, il suo portavoce, l'ufficio quindi del primo ministro, di aver effettuato una telefonata al presidente della Repubblica Turca, Erdogan. Buona fortuna, dice, per il secondo turno delle elezioni presidenziali fra meno di due settimane vogliamo una Turchia stabile che fa il bene, tutto questo va a fare il bene al mondo, non solo all'Ungheria, all'Europa. La stabilità della Turchia è la nostra stabilità. E mette una foto di un vecchio Nokia. Lui non usa i cosiddetti smartphone, cioè telefoni intelligenti. È stata riconosciuta dal Servizi Segreti Militari Ucraini, o meglio da Kirill Obunanov, che è il capo proprio della GUR, dei Servizi Segreti Militari di Kiev, la responsabilità, nessuna smentita assolutamente di tutti quegli attentati terroristici, di quelle bombe e autobombe contro giornalisti, attivisti politici in Russia, un po' in giro nel mondo, contro personalità russe. Si cita, tra l'altro, anche Vladimir Soloviov, importante presentatore televisivo di Russia, ad in Planeta. Dice Budanov, in un'intervista video, noi continueremo ad uccidere i russi in giro ovunque nel mondo finché l'Ucraina non vince definitivamente questa guerra contro Mosca. Almeno tre civili uccisi, ancora Donetsk, nella città controllata dai russi, per i colpi d'artiglieria ucraini. Quindi mercoledì, ieri, come riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione comunale della città di Donetsk, Alexei Ulemzin. Ci sono anche le foto che testimoniano poi la distruzione dei colpi da decine, anzi più dozzine di colpi di artiglieri da 155 mm di calibro, quelli che verranno finanziati nei prossimi anni anche dall'Unione Europea con il famoso pacchetto dove c'è il no, solo dell'Ungheria sostanzialmente. Corruzione, arresto per corruzione del capo giudice, la più grande della Corte Suprema Ucraina. L'autorità anticorruzione ucraina, Nabu, ha effettuato una perquisizione domiciliare. Guardate un po' con il tweet ufficiale sul divano. 3 milioni di dollari in contanti confiscati. L'uomo Knyaziev, il giudice, ha gli arresti. Dischia una condanna e anni di galera. Lo riporta Reuters. Vedremo come andrà a finire. Forse con nulla di fatto. A Mikolaev, quindi nella città del meridione dell'Ucraina del 91, una città portuale sul Mar Nero, colpito un ennesimo deposito di munizioni anche occidentali dell'esercito ucraino dai bombardamenti russi con missili a grande precisione, grande precisione da crociera dal Mar Nero, sparati dal mare. A riportare nel bollettino di guerra il generale russo portavoce mistero della difesa russo Igor Konashenkov ieri rispetto alla giornata dell'altro ieri. A Bakhmut, il fronte più interessante e simbolico di questa fase della guerra, continuano le lotte dentro al centro urbano. La Wagner continua ad avanzare per i russi ai danni degli ucraini, mentre fuori dal centro urbano a nord e a sud, continua una certa avanzata dell'esercito ucraino, come ammesso anche da fonti russe. L'FSB, quindi i servizi di sicurezza interni russi, hanno arrestato con l'accusa di spionaggio internazionale una cittadina ucraina di 25 anni, una ragazza che avrebbe poi raccolto informazioni sui fronti dell'oriente dell'Ucraina, quindi fronti di guerra orientale soprattutto del Donbass, rispetto alle forze militari russe, per consegnarle evidentemente al nemico all'Ucraina. Rischia una condanna da 10 a 20 anni di galera in Russia. E' stata distrutta, strappata e buttata giù una bandiera dell'Ucraina dal comune di una cittadina del nord della Germania, Wismar. Questo è successo un incidente di lunedì sera scorso, lo riporta lo Spiegel tedesco. E a proposito, la Cina ha esortato tutte le ambasciate straniere, soprattutto certe sul suo territorio, territorio nazionale, ad allontanare e togliere tutte quelle campagne pubblicitarie, blocate, come si può dire, cartelloni e bandiere che richiamano l'Ucraina o vanno a favore dell'Ucraina nella guerra, quindi contro la Russia. Ambasciate soprattutto quelle del Canada, della Polonia e della Germania nel paese dell'estremo Oriente. Perché per la Cina, quindi per Xi Jinping e i vari ministri si tratta assolutamente di propaganda di guerra politica ideologica antirussa inammissibile se si vuole cercare e trovare poi una soluzione diplomatica al conflitto. Lo riporta questa cosa interessante l'agenzia stampa giapponese, Giapponese, Kiyodo News. Con questa notizia vi lascio, grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modio e Rorsag.